Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Sali con me! Sali con noi, dai! Sali con me! Noi ci mettiamo dopo! Che vuoi spiegare meglio? Raccontaci di più! Bomba! Ma dici di più Francesca! Allora, niente c'è altro eh? Ci sono altri muri per fare soldi! Ma no no! Altri muri! Altri muri! Ci sono altri muri per fare soldi eh? Lei c'è tipo 3,4 personalità! Lei c'è 5,6 personalità sicuramente! Vabbè ragazzi comunque parte le cazzate! Cerca Inzaghi? 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 Acerbi content! C'è il numero di un calciatore? No! Giovinco? Raga che cazzo è? Dai Francesca! 1,1! Voi chiamiamo Radu? Ma perché non è che io? Posso farlo? Eh? Così ma non è che io? Così ma non è che io? Eh! Eh! Bel cicciottone! Ma che è il suo progetto? La double qua era! Double kill! Non fa ridere! Ci rissaggiamo ovviamente! Double kill! Cos'hai detto? Lui? Cos'era? Ma adesso vedrai? Non leggi il piccante? Ma ho appena detto! Ho detto prima! Non niente di piccante! Ma lo stai leggendo benissimo! Come è il piccante? Te l'avevi sentito? Come siamo? Sincera! Mandala via! Ma posso buttarla? Si! Certo! Apri la mia bocca! Vai! no no non c'è scatto tutto qua non l'hai mangiata è l'opastica mi ha autobastica ero un attimo impegnato ma dove a troie ti presentiamo due ragazze e pure maurizio dottor ciao ragazze eh bel cicciottone ma che è il suo progetto da davul qua e la vedi qua vieni qua di lanci per fare è partito il primo speed baby dylan vai ciao ciao quanti anni hai ricorda che hai fatto il pezzo del matador non si ricorda quanti anni hai ragazzi 17 anni chiamo a bordo chiamo a bordo anzi don pio vieni qua te lo giuro che puoi invece chi è bambè bambè c'è bambito ragazze è il tuo quarto il croccio è il quarto drink basta bravo ecco il bambito la cosa scusa accetto deve sempre esagerare credo credo le piccolato le tette posso dire pubblicamente sai cosa serve in questa diretta no serve l'alcol la puttana e la droga non c'è alcol non c'è mai possibile ciao matteo lui qualcosa che la boe ma vabbè è brutta se io ne ci preghiamo con le boe no testa di cazzone ci pagano ci pagano e qua bravo sta prendendo metti in camera ma dai in lì dove ho pagato a chiamare una volta da pagare oh donne dai eh presentatevi se non muore si ripete ti ripete perché la ripete ti ripete ti ripete ti ripete ti ripete ti ripete ti ripete ci siamo visti ieri no come è andata la sua uscita ah lagga dentro follia se ognuno fosse in cui dovrebbe laggare dentro lagga dentro saliamo tutti fermi 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 successo lagga dentro oddio ecco hey minecraft come ti accendere cioè oggi non lagga fuori lagga dentro eh come fanno a laggare qua fuori lo accendi please aspetta che la situazione critica è qua fermi non voglio responsabilità che va ammazzata e salta un'altra gamba poi andiamo tutti a prenderla piscina andiamo tutti a prenderla andiamo tutti a prenderla piscina piscina e torniamo tutti dietro e torniamo tutti dietro andiamo pure in casa vediamo ah possiamo lo sapete l'ho messo a posto oggi no 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 dire la verità stamattina mi sveglio guarda come poi c'è la camera guarda guarda c'è qualcosa che non va qua dentro eh no? stamattina mi sveglio e vedo la tipa delle polizie là io non tutto faccio come va Alexiii ok ci siamo dobbiamo urlare di più tutti eh grazie a lottura e tieni lì tieni lì dove? perchè sennò si stoppa la live ho detto è saltata si è saltata 5 volte ok vabbè è ragione andiamo a ragione io Alexi posso continuare eh? vabbè oh Alexi me stai esagerando però eh adesso faccio una chat va per la bella l'ho brutta notizia non c'è il pino hai chiuso il telefono anzi scusa anzi che parata ha fatto qua? ma che è Andre? brava bella parata guarda guarda per sei possiamo vederli? si vai vai come fare? si allora vabbè se sei stanca guarda guarda che mi stanno dissando perchè ho detto che tifo samp giusto forza Geno no ma perchè a me nella chat ti dicono che sto pippando perchè hai pippato il palese? vero? è così palese? non vuol ascoltarlo meglio cammi vieni tu con noi che ti buttiamo in piscina tutta no io non posso fare il bagno perchè non saluto altro perchè non puoi fare il bagno ta? perchè non puoi fare il bagno? 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 no non mi inquadrare così minchia stiamo cadendo stiamo cadendo così si chiro un pugno tra poco camilla vieni qua con me bro ho visto ma ci avevi fatto un cazzo andiamo dai su salite esagerando esagerato scuse pubbliche scusa camilla ha fatto il gesto del bocchino ahhhh per favore mi chiedi giro eh calmatevi lentamente mi chiedi di calmarvi ha fatto pulire del solito poter andare giù lentamente ragazzi ehm ascio ragazzi scusa quando mi toccano queste cose qua io mi incazzo ma poi davanti alla ragazza io ti giuro su dio che mi trasformo io dai come sei ti per lo scusa dai come lo scusa perché poi io lo sai come sono fatte nei maschi dai io ti prego grazie mille è un bellissimo messaggio capito ok pessimate comunque c'è da dire che sia stato troppo bello ragazzi vi faccio vedere una stato troppo guarda qua cazzo ma è infinito dai frema ma che mi ha visto che non mi avevi riconosciuto ma frema non ti aveva visto non ti aveva mai riconosciuto non ti aveva visto ma tu sei fatto di pelle l'hai fatto di pietra ma adesso non ho fatto di peli perchè questa mia faccia di droga è finita sto scappando dei zoom dei zoom segui ralexi con la cam ma dov'è che è andato il babbo ma perchè non si può aggiungere ma aggiungiamo anche l'altra cam in piccolo no eccolo qua attenzione perchè il settore 2 casco rosso per il rosso due decimi di vantaggio in rispetto di Marquez occhio gli ostacoli davanti ed è c'è la salita Nibali Nibali spinge l'ultimo sprint di Nibali occhio adesso tutti i piedi su di mano è arrivato in testa il rosso il riso di vantaggio l'ultimo sprint di Nibali l'ultimo sprint di Nibali